Salve ragazzi, benvenuti sul mio canale e benvenuti nel mio allevamento per chi non mi conosce e mi sta seguendo ora io mi chiamo Alessandro Passaro ed allevo Arcià di Fiorino e questo è il mio allevamento benvenuti sul mio canale e se vi piace ciò che faccio vi chiedo di lasciare un like di commentarmelo giù nei commenti e di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanella così da non perdere nessun video oggi è un video per augurarvi una buona e serena Pasqua a tutti voi e ai vostri cari e per aggiornarvi un pochettino su cosa sta succedendo all'interno del mio allevamento ovviamente siamo a pieno regime quindi comunque a breve inserirò i secondi nidi ad alcuni già l'ho fatto e devo dire la verità non posso lamentarmi quest'anno sta andando abbastanza bene vorrei dire bene però ovviamente c'è sempre qualche pecora nera che dà fastidio che comunque fa qualcosa che non deve fare ma comunque può succedere e succede nulla ragazzi questo è quanto vi auguro buone feste e ci vediamo al prossimo video 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 ciao 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 ciao